emicrania con aura ciao a tutti molti ne soffrono voglio fare un video per far capire quello che prova uno che ha in corso un emicrania con aura io ne soffro quindi purtroppo lo so bene questo video non è fatto tanto per quelli che appunto soffrono normalmente di emicrania con aura perché loro conoscono benissimo il problema serve per far capire agli altri cosa si prova perché spesso volentieri si è un po come dire incompresi perché purtroppo da fuori non si vede nulla però chi ce l'ha sta molto male allora l'emicrania con aura è una forma di mal di testa estremamente violenta alle volte può durare pure qualche giorno e la soluzione in genere è quella di prendere un medicinale e poi di chiudersi dentro una stanza buia e questo mal di testa estremamente forte viene preceduto da tutta una serie di effetti speciali chiamiamoli così va tra cui effetti visivi che quelli sono quelli che proprio poi gli danno il nome laura perché uno vede proprio come avete presente l'aurora boreale ecco una cosa del genere beh ma io adesso ve lo faccio vedere quello che vede quello che comincia inizia a vedere uno con l'emicrania con aura che è questo qui praticamente ecco se voi in questo momento fosse sottoposti a un'emicrania con aura mi vedreste così con questi sberci in mezzo nel campo visivo la cosa peggiora fino ad arrivare a cose del genere ovviamente ognuno ha la sua emicrania con aura ha i suoi disegni i suoi flash ognuno di noi diverso quindi non non ci sono due uguali insomma per dire ecco quello questo è quello che succede capite che è invalidante e le prime volte che succede ovviamente spaventa molto crea panico poi alla fine uno piano piano ci fa l'abitudine alle volte un diverso che ci convive ma quasi c'è gente che ce l'ha molto spesso io per fortuna sono molto di grado però c'è gente c'è molto spesso e quindi vedete ecco questo è l'effetto dopo questa fase si scatena il vero e proprio mal di testa pesantissima forte bene io spero di aver dato una un'idea di quello che vuol dire emicrania con aura soprattutto dell'aura nella prima fase se siete persone soggette a questo problema potete scrivere qualche esperienza vostra sotto se quello che vedete pure no aggiungere dei commenti vi ringrazio e poi magari farò vi farò vedere in un altro video come l'ho fatto questo video qui il bricolage è vero e proprio bricolage ciao a tutti ci vediamo prossimo video iscriviti al canale